Convenzioni sì, ma non per tutti. Potremmo riassumere così la manovra correttiva del comune di Fano, che dopo le numerose lamentele sulle soste a pagamento, ha deciso di andare incontro agli operatori della pesca che potranno lasciare gratuitamente le auto negli stalli di fronte al porto. Agevolazioni dal 14 giugno anche per i soli residenti di Via L'Adriatico, Via Spontini e Via Le Cairoli. Questi, con un bollo annuale di 16 euro, non pagheranno il parcheggio dalle 19 alle 8.30 e nella pausa pranzo dalle 12.30 fino alle 15.30, esponendo il contrassegno. Altra possibilità, sempre per loro, è quella di richiedere ad Aset un abbonamento dal costo di 30 euro applicabile per un'auto a nucleo familiare, che può essere parcheggiata nelle stesse vie H24. Per clienti, lavoratori e altri residenti, nessuna convenzione. La cosa non mi riguarda perché ho il garage io, quindi il problema per me non sussiste, però molti della zona che devono comunque sia parcheggiare diventa una spesa molto elevata. Quindi ci vorrebbero delle convenzioni, come pure ci vorrebbero delle convenzioni per le persone che lavorano, perché dal momento che comunque sia devono parcheggiare, spendere dei soldi per intero per tenere la macchina, cioè conviene che stanno a casa e prendono il reddito di cittadinanza. Perché così facendo uno non rischia la multa o non paga 50 centesimi di più un caffè. Ha una proposta ad avanzare al comune? Io sì, potrei dire di trovare un'area dove poter far parcheggiare comunque sia sia chi lavora, sia i residenti, sia chi vuole semplicemente farsi un giro per Fano, un parcheggio fuori e un bus e navetta che ci collega con la città. Dove abita lei? Io abito qua dietro, praticamente in via Nazario Sauro. Quindi non avrebbe il parcheggio gratuito, tantomeno le convenzioni, come ha preso questa notizia? Ma l'ho appresa da fonti così, da Fano TV e da internet eccetera. Mi sembra una scelta assolutamente assurda e fuori luogo, in quanto come residente e come possessore di permesso ZTL, quindi già pago una tassa annuale, mi sembra veramente surreale, metafisico, che io debba pagare le strisce blu. Lo vorrebbe gratuito? Eh certo, come a Napoli, a Roma, a Milano, a Firenze, le grandi città. Se Fano deve essere una grande città e deve lanciare il turismo, se non altro che i residenti lancino il turismo dicendo è una bella città che dia una specie di promozione in questa maniera. E sono diversi anche i titolari di attività che si affacciano su via Nazario Sauro, delusi dalla mancanza di un confronto e di convenzioni. Effettivamente è vero, magari questa cosa può dare giro ai parcheggi, però prima di fare una cosa del genere bisogna prevedere delle soluzioni per i commercianti, per i residenti e via dicendo. Per i residenti hanno provveduto, per noi ancora diciamo che non c'è nessuna notizia e comunque sono cose che andavano fatte prima a prescindere. Adesso speriamo che qualcuno ci metta la mano, anche perché per i dipendenti, se non per me quanto per i dipendenti, vengono a lavorare a 10 euro al giorno di parcheggio, cosa gli rimane? Cioè niente, quindi voglio dire boh, vediamo un po'. Questa mattina inoltre alcuni imprenditori ci hanno fatto notare anche la segnaletica verticale troppo alta e spesso non facilmente visibile dagli automobilisti che quindi entrano nel controviale e vengono multati. La ritiene giusta, corretta questa rivoluzione dei parcheggi? Secondo me il problema c'è e rimarrà anche in futuro, prima o poi probabilmente rimarrà così perché hanno deciso già a Monte, visto che sono state fatte già tutte le cose senza secondo me chiedere o anche se hanno chiesto, noi qua non lo sapevamo e in questo caso, nel mio caso non ho più un parcheggio al volo per i clienti, non ho più un carico e scarico che si trovava di fronte al mio negozio, cioè c'è, ancora c'è, ma è stato coperto da linee blu e cancellato. Quindi io voglio sapere dal sindaco o da chi ha organizzato tutta questa cosa se era fattibile tutto quello che hanno fatto o se c'era anche qualche possibilità di poter lasciare qualche parcheggio libero per un cliente occasionale o comunque per qualcuno che non ha possibilità di pagare e pagarsi un parcheggio a lungo termine perché poi alla fine parliamo di quanto? 7, 8, 10 euro al giorno se la lasci fissa? I residenti qua non hanno un parcheggio dentro casa, hanno solo la possibilità di parcheggiare qui davanti, quindi non avendo più questa possibilità dove la mettono?